Capitolo 4 La nostra eroina dà un consiglio, il nostro eroe lo accetta e tutti mangiano troppa torta. Stava sbagliando tutto. Lucy guardò oltre la spalla di Bearbrook cercando di non accigliarsi. Mr. Bridgerton stava compiendo valorosi sforzi per conquistare i favori di Ermione e lei doveva ammettere che in circostanze normali e con una donna diversa avrebbe avuto facilmente successo. Pensò alle sue ex compagne di scuola. A quel punto ognuna di loro avrebbe già perso la testa per lui. Ma non Ermione. Si stava sforzando troppo. Era troppo premuroso, troppo concentrato, troppo, troppo, beh, francamente troppo innamorato o perlomeno troppo infatuato. Gregory Bridgerton era affascinante, bello e evidentemente anche piuttosto intelligente, ma Ermione aveva già avuto troppe esperienze simili. Lucy aveva perso il conto dei gentiluomini che avevano corteggiato la sua amica in quel modo. Alcuni erano spiritosi, altri più seri. Le avevano regalato fiori, poesie, dolci. Uno di loro le aveva addirittura portato un cucciolo, prontamente rifiutato dalla madre di Ermione dopo aver informato il poveretto che le abitudini dei cani non si adattavano ai tappeti Obusson, alle porcellane orientali o a lei stessa. Ma, in fondo, si erano comportati tutti secondo lo stesso cliché. Pendevano dalle sue labbra, la guardavano come se fosse una dea greca e si facevano in quattro per rivolgerle i complimenti più romantici e brillanti che le sue graziosi orecchie avessero mai udito e, soprattutto, sembravano non rendersi mai conto di quanto fossero poco originali. «Se Mr. Bridgerton voleva davvero suscitare l'interesse di Ermione, avrebbe dovuto fare qualcosa di diverso». «Altra torta all'uva spina, Lady Lucinda?» le domandò Bearbrook. «Sì, grazie», mormorò in risposta, anche solo per tenerlo occupato mentre rifletteva sul da farsi. Non voleva davvero che Ermione gettasse via la propria vita con il segretario di suo padre, mentre Mr. Bridgerton era davvero perfetto. Aveva soltanto bisogno di un po' di aiuto. «Oh, guardate!» esclamò Lucy. «Ermione ha finito la torta!» «L'ha finita?» domandò Neville trassalendo. Lucy lo guardò sbattendo le ciglia, una civetteria che non era troppo abituata a mettere in pratica. «Sareste così gentile da servirgliene una fetta?» Quando Bearbrook annui, Lucy si alzò. «Voglio sgranchirmi le gambe», annunciò. «Ci sono dei fiori deliziosi in fondo al prato. Mr. Bridgerton, sapete qualcosa sulla flora locale?» Lui la guardò, sorpreso dalla domanda. «Un po', rispose, ma non si mosse». Ermione stava dicendo ripetutamente a Mr. Bearbrook di adorare la torta di uva spina, quindi Lucy sfruttò il momento e, indicando i fiori con un cenno del capo, lanciò a Gregory un'occhiata che voleva dire «Venite con me all'istante!» Lui parve sconcertato per un attimo, ma si riprese in fretta e si alzò. «Volete permettermi di parlarvi un po' dei dintorni, Lady Lucinda?» «Sarebbe fantastico», rispose lei, forse con un po' troppo entusiasmo. Ermione la stava fissando con aria chiaramente sospettosa, ma Lucy sapeva che non si sarebbe mai offerta di accompagnarli, altrimenti avrebbe illuso il suo spasimante di gradire la sua compagnia. Ermione rimase dunque sola con Mr. Bearbrook e la torta. Lucy scrollò le spalle. Ben le stava. «Credo che questa sia una margherita», spiegò Gregory quando ebbero attraversato il campo, «e quel fiore azzurro... in effetti non so come si chiama». «Speronella», osservò Lucy in tono spiccio. «Non vi ho certo convocato per parlare di fiori». «L'avevo sospettato». Lucy decise di ignorare il suo tono. «Volevo darvi qualche consiglio». «Ah, sì?» disse lentamente e la sua non era una domanda. «Sì?» «Di che genere?» Non c'era modo per indorargli la pillola, quindi lo guardò dritto negli occhi e disse «State sbagliando tutto». «Come sarebbe a dire?» domandò lui rigidendosi. Lucy represse un gemito. Adesso lo aveva ferito nell'orgoglio e si sarebbe messo sulla difensiva. «Se volete conquistare Ermione», gli spiegò, «dovrete fare qualcosa di inconsueto». Lui la fissò con un'espressione al limite del disprezzo. «Sono capacissimo di condurre un corteggiamento». «Ne sono certa», con altre donne. «Ma Ermione è diversa». Gregory restò in silenzio e Lucy capì di avere colto nel segno. Anche lui riteneva Ermione fuori dal comune, altrimenti non si sarebbe sforzato tanto. «Tutti fanno come voi», gli spiegò, guardando verso gli altri due per accertarsi che non si fossero alzati per raggiungerli. «Tutti quanti». «Un uomo ama sempre essere paragonato al greggio», murmurò Mr. Bridgerton stizzito. Lucy avrebbe potuto replicare in mille modi, ma si focalizzò sul problema immediato e disse «Non potete agire come gli altri, dovete distinguervi». «E come proponete di farlo?» Lei sospirò. La risposta non gli sarebbe piaciuta. «Dovete smettere di essere così devoto, non trattatela come una principessa, anzi, lasciatela perdere per qualche giorno». Lui la squadrò con diffidenza. «E permettere che gli altri uomini le corrano dietro?» «Le correranno dietro comunque», replicò lei in tono pragmatico. «Non potete farci niente». «Magnifico! Se vi ritirerete, Ermione si chiederà il perché». Mr. Bridgerton sembrava dubbioso, quindi Lucy aggiunse «Non vi preoccupate. Sa che siete interessato a lei. Santo cielo, dopo la giornata di oggi dovrebbe essere una sciocca per non essersene accorta». Lui la squadrò con aria truce e Lucy si meravigliò della schiettezza che stava usando con un uomo che conosceva appena. Tuttavia ha mali estremi, estremi rimedi. «Vi garantisco che lo sa». Ermione è molto intelligente, anche se nessuno sembra mai notarlo. Gli uomini non vedono altro che il suo viso. «A me piacerebbe conoscere i suoi pensieri», commentò lui a voce bassa. Qualcosa nel suo tono colpì Lucy in pieno petto. Lo guardò negli occhi ed ebbe la stranissima sensazione che la terra le sparisse sotto i piedi. Era diverso dagli altri gentiluomini che aveva conosciuto. Non sapeva esattamente in che senso, ma aveva qualcosa in più. Qualcosa che le faceva sentire una morsa nel petto. Per un istante pensò che sarebbe scoppiata in lacrime. Ma non lo fece, non poteva. Non era quel genere di donna e non desiderava esserlo. Non era il tipo da mettersi a piangere senza nemmeno conoscerne il motivo. Lady Lucinda? Era rimasta zitta troppo a lungo. Non era da lei e… «Non vi metterà a parte dei suoi pensieri». Proruppe tutto d'un tratto. «Ma voi potreste…» Si schierì la voce. Annui riprese il controllo e infine guardò fisso il piccolo tappeto di margherite che scintillavano al sole. «Potreste convincerla a farlo, ne sono sicura. Se sarete paziente e sincero». Per un po' lui non disse nulla. L'unico rumore era il sussurro della brezza. Poi pacatamente le domandò «Perché mi state aiutando?». Lucy lo guardò e fu un sollievo notare che stavolta la terra era rimasta ben ferma. Era di nuovo se stessa, pragmatica fino al midollo. E lui era solo un altro uomo che smaniava per la mano di Ermione. Era tutto normale. «O voi o Mr. Edmonds», gli disse. «È così che si chiama», mormorò lui. «È il segretario di suo padre», spiegò Lucy. «Non è una cattiva persona e non ritengo che sia solo a caccia del suo denaro, ma anche uno sciocco capirebbe che voi siete un partito migliore». Lui piegò la testa di lato. «Perché mi sembra che abbiate appena definito sciocca Miss Watson». Lucy lo fissò con occhi di ghiaccio. «Non permettetevi mai di mettere in dubbio la mia fedeltà a Ermione. Non potrei…» Lanciò un'occhiata verso l'amica per controllare che non stesse guardando, quindi aggiunse «La amo come più di una sorella». Dovette quindi riconoscere che a quel punto Gregory Bridgerton le rivolse un rispettoso cenno del capo e dichiarò «Vi ho fatto un torto. Vi porgo le mie scuse». Lucy deglutì a disagio. Sembrava sincero e questo contribuì ad ammorbidirla. «Ermione è tutto per me», pensò alle vacanze scolastiche trascorse con la famiglia Watson e ai tristi rientri a casa propria, che non sembravano mai coincidere con quelli del fratello. Fenceworth Abbey era allora un luogo freddo e severo, dove l'unica compagnia era quella di suo zio. Robert Abernati aveva sempre compiuto il proprio dovere con i due nipoti, ma anche lui era piuttosto freddo e severo. Per Lucy quella casa significava lunghe passeggiate solitarie, letture solitarie e addirittura pasti solitari, visto che zio Robert non sembrava interessato a mangiare insieme a lei. Quando le aveva detto che avrebbe frequentato la rinomata scuola di Miss Moss, il suo primo impulso era stato quello di buttargli le braccia al collo e gridare «Grazie, grazie, grazie!», solo che non lo aveva mai abbracciato nei sette anni in cui era stato il suo tutore, senza contare che in quel momento era seduto dietro la sua scrivania e aveva immediatamente riportato l'attenzione sulle carte che aveva davanti. Quindi Lucy era stata congedata. Quando aveva cominciato la scuola, Lucy si era lanciata nella nuova vita da studentessa e aveva adorato ogni momento. Era meraviglioso avere qualcuno con cui parlare. Suo fratello Richard era partito per Eton a dieci anni, ancora prima della morte del padre, e lei si era trovata a ciondolare nei corridoi di Fensworth Abbey per quasi un decennio, con la sola compagnia della sua invadente istitutrice. A scuola era molto apprezzata. Era quello l'aspetto migliore. Se a casa si sentiva un fardello, alla scuola di Miss Moss per signorine di buona famiglia, le altre studentesse cercavano la sua compagnia. Le ponevano domande e aspettavano di sentire le sue risposte. Forse non era proprio la peregina dell'istituto, ma sapeva che quello era un posto adatto a lei. Lei e Ermione erano state assegnate alla stessa camera fin dal primo anno e avevano stretto amicizia quasi istantaneamente. La sera del primo giorno stavano già ridendo e chiacchierando come se si fossero sempre conosciute. In un certo senso, Ermione la faceva sentire... meglio. Non era merito soltanto della loro amicizia, ma della consapevolezza di essere amiche. A Lucy piaceva essere la migliore amica di qualcuno. Adorava sapere che al mondo esisteva una persona che la preferiva a chiunque altro. La faceva sentire sicura di sé. Era rassicurante. Più o meno come aveva detto Mr. Bridgerton riguardo alla propria famiglia. Lucy sapeva di poter contare su Ermione e Ermione sapeva di poter contare su di lei. Non era certa di poter dire lo stesso di qualcun altro. Di suo fratello, forse. In caso di necessità, Richard sarebbe sempre accorso in suo aiuto, ma si vedevano troppo di rado. Era un peccato perché da piccoli erano molto legati. Nell'isolamento di Fenceworth Abbey raramente avevano qualcun altro con cui giocare, quindi erano diventati più uniti. Lucy si sforzò di concentrarsi sul presente e si rivolse a Mr. Bridgerton, che, immobile, la stava guardando con un'espressione di garbata curiosità. Aveva la stranissima sensazione che, se gli avesse raccontato tutto, di Ermione, di Richard, di Fenceworth Abbey, di quanto le era piaciuto andare a scuola, lui avrebbe capito. Sembrava impossibile, visto che proveniva da una famiglia così numerosa e notoriamente unita. Non poteva sapere cosa significasse essere soli, avere qualcosa da dire, ma nessuno a cui dirlo. Eppure i suoi occhi sembravano improvvisamente più intensi e più concentrati sul suo viso. Deigluti, santo cielo, che cosa le stava accadendo se non riusciva nemmeno a terminare un pensiero? Voglio solo che Ermione sia felice, riuscì a dire. Spero che ve ne rindiate conto. Lui annui e poi rivolse un'occhiata agli altri. Vogliamo tornare da loro? domandò. Poi con un sorriso mesto aggiunse, credo che Mr. Barbrook abbia rimpinzato Miss Watson con tre fette di torta. A Lucy venne da ridere. Oh cielo! Il tono di lui era deliziosamente bonario quando disse, dovremmo tornare se non altro per la sua salute. Rifletterete su ciò che vi ho detto? domandò Lucy consentendogli di prenderla sotto braccio. Lui annui. Lo farò. Involontariamente gli strinse con più forza il braccio. Vi garantisco che ho ragione. Nessuno conoscermi un è meglio di me e nessun altro ha visto tutti quei gentiluomini provare a conquistare il suo cuore e fallire miseramente. Lui si voltò e i due si trovarono a guardarsi negli occhi. Per un momento rimasero perfettamente immobili e Lucy si rese conto che lui la stava esaminando. Il suo sguardo avrebbe dovuto farla sentire in imbarazzo. E invece no. E quella fu la cosa più strana. La stava fissando come se potesse penetrarle direttamente nell'anima. Eppure non la metteva affatto a disagio. Anzi, era stranamente gradevole. Sarò onorato di accettare il vostro consiglio su Miss Watson. Le disse mentre si incamminarono per tornare verso il picnic. E grazie per avermi offerto il vostro aiuto per conquistarla. Non c'è di che, balbettò Lucy. Perché era ciò che voleva, no? Ma in quel momento si rese conto di non sentirsi più così sicura. Gregory seguì le direttive di Lady Lucinda alla lettera. Quella sera non si avvicinò a Miss Watson in salotto, dove si erano radunati gli ospiti prima di cena. Una volta a tavola, poi, non tentò di interferire con l'ordine previsto e di farsi cambiare posto per sedersi accanto a lei. E quando i gentiluomini, dopo aver bevuto il porto, raggiunsero le signore nell'auditorium per un recital di pianoforte, si sedette in fondo alla sala, anche se lei e Lucinda erano da sole e per lui sarebbe stato facile, quasi scontato, fermarsi a salutarle passando. Invece no. Aveva deciso di attenersi a quel piano potenzialmente sconsiderato. E così guardò Miss Watson accomodarsi tre file davanti a lui e si rilassò sulla sedia, concedendosi la soddisfazione di fissarle la nuca. Sarebbe stato un passatempo del tutto gratificante se la sua mente non fosse stata ossessionata dall'assoluta mancanza di interesse della fanciulla nei suoi confronti. Se anche gli fossero spuntate due teste e una coda, non avrebbe ricevuto altro che il solito mezzo sorriso di cortesia che Miss Watson sembrava dispensare a chiunque. Non era il genere di reazione che era abituato a suscitare nelle donne. Non che si aspettasse un'adulazione cieca, ma di solito il frutto dei suoi sforzi era migliore di quello. Era proprio maledettamente irritante. Guardò quindi le due giovani, sperando che si girassero, che si muovessero un po', un minimo segnale che lasciasse intendere che si erano accorte della sua presenza. Alla fine, dopo tre concerti e una fuga, fu Lady Lucinda a ruotare lentamente la testa. Era facile immaginare i suoi pensieri. Lentamente fai finta di guardare la porta per vedere se sta entrando qualcuno e lancia un'occhiatina verso Mr. Bridgerton. Lui sollevò il bicchiere in segno di saluto. Lady Lucinda trasalì, o almeno lui se lo augurò, per poi voltarsi di scatto. Gregory sorrise. Non era corretto godere del disagio di lei, ma fino a quel momento era stato l'unico momento divertente della serata. Quanto a Miss Watson, se riusciva a percepire il calore del suo sguardo, non lo lasciava minimamente intendere. Gregory avrebbe desiderato pensare che lo stesse ignorando di proposito. Sarebbe stato almeno un indizio di una certa consapevolezza. Ma dal modo in cui si guardava pigramente attorno, chinando il capo di tanto in tanto per bisbigliare qualcosa all'orecchio dell'amica, era dolorosamente chiaro che non lo stava ignorando affatto. Non lo aveva neppure notato. Gregory serrò le mascelle. Anche se non dubitava delle buone intenzioni che avevano spinto Lady Lucinda a dargli quel consiglio, ora gli sembrava disastroso e, con soli cinque giorni a disposizione prima della fine della festa in campagna, aveva sprecato del tempo prezioso. Sembri annoiato. Si voltò. Sua cognata aveva preso posto accanto a lui e stava sussurrando per non disturbare il concerto. Un bello smacco per la mia reputazione di padrona di casa, aggiunse in tono secco. Niente affatto. Sei splendida come al solito, mormorò lui. Kate restò in silenzio per qualche istante prima di dire «è decisamente graziosa». Gregory non si preoccupò nemmeno di fingere di non capire. Kate era troppo intelligente, non voleva però incoraggiare la conversazione. «È vero», si limitò a rispondere continuando a guardare davanti a sé. «Io sospetto che il suo cuore sia già impegnato», osservò Kate. «Non hai incoraggiato nessun gentiluomo da quando è qui e ci hanno davvero provato tutti». Gregory si irrigidì. «Ho sentito dire», continuò, «che è stato così per tutta la primavera. La fanciulla non sembra cercare marito». «Le piace il segretario di suo padre», le confidò Gregory. «Perché mai tenerlo nascosto? Kate scopriva sempre tutto. Forse lo avrebbe aiutato». «Davvero?», gli domandò a voce un po' troppo alta, scusandosi poi con gli ospiti. «Davvero?», ripetei in un sussurro. «Come fai a saperlo?». Gregory aprì la bocca per rispondere, ma Kate si rispose da sola. «Ma certo, Lady Lucinda, lei sa tutto». «Tutto», confermò Gregory in tono amaro. Kate riflettè per qualche istante, poi affermò ciò che era ovvio. «I suoi genitori non possono essere contenti. Non penso che ne siano al corrente». «Oh cielo!». Kate era rimasta così colpita da quel pettegolezzo che Gregory si voltò a guardarla. Aveva gli occhi sgranati e scintillanti. «Cerca di contenerti», le disse. «Ma è la notizia più interessante che ho sentito dall'inizio della primavera». Gregory la guardò dritto in faccia. «Devi cercarti un hobby». «Oh, Gregory!», esclamò, dandogli un colpetto con il gomito. «Non lasciare che l'amore ti renda così rigido. Sei un tipo spiritoso. I suoi genitori non permetteranno mai che sposi un segretario. E lei non è il tipo da fuga d'amore. Devi soltanto aspettare». Lui emise un sospiro irritato. «Lo so, lo so», disse Kate, cercando di rasserenarlo. «Vorresti tutto e subito. I tipi come te sono sempre impazienti». «I tipi come me?». La sua risposta si limitò a un cenno della mano nell'aria. «Fidati, Gregory, è meglio così. Che lei sia innamorata di un altro». «Ma smettila di essere drammatico. Volevo dire che in questo modo avrai il tempo di essere sicuro dei sentimenti che provi per lei». Gregory pensò alla sensazione che gli suscitava. Soprattutto, strano a dirsi, quando guardava la sua nuca. Era una specie di pugno nello stomaco. Non gli sembrava affatto di avere bisogno di tempo. Era proprio così che aveva sempre immaginato l'amore. Immenso, improvviso e inebriante. E allo stesso tempo devastante. «Strano che tu non mi abbia chiesto di avere un posto accanto a lei per cena», murmurò Kate. Gregory lanciò un'occhiata truce alla nuca di Lady Lucinda. «Se lo desideri te ne posso riservare uno per domani», continuò Kate. «Va bene», la cognata annuì. «Sì, oh, sta terminando la musica. Adesso stiamo attenti e comportiamoci cortesemente». Entrambi si alzarono per applaudire. «Non hai mai provato a non chiacchierare per un intero recital?», domandò Gregory tenendo lo sguardo fisso davanti a sé. «Ho una strana avversione per questi intrattenimenti», rispose lei curvando le labbra in un sorriso malizioso. «E anche una specie di predilezione nostalgica». «Davvero?» Aveva suscitato la sua curiosità ora. «Ovvio», mormorò evitando il suo sguardo di proposito. «Mi hai mai visto assistere a un'opera?» Gregory inarcò le sopracciglia. Doveva esserci stata una cantante d'opera nel passato di suo fratello. «A proposito, dove si era cacciato Anthony?» Sembrava aver sviluppato un notevole talento nell'evitare ogni evento sociale di quei giorni. Dopo la chiacchierata che avevano fatto la sera del suo arrivo, l'aveva visto solo due volte. «Dov'è il brillante Visconte Bridgerton?» le domandò. «Oh, da qualche parte, non so. Comunque alla fine della giornata ci ritroviamo sempre, ed è questo l'importante». Kate gli rivolse un sorriso sereno, talmente sereno da risultare seccante. «Devo occuparmi degli altri ospiti», aggiunse con l'aria di chi non ha una sola preoccupazione al mondo. «Divertiti». E se ne andò. Gregory cercò di fare un po' di cortese conversazione con gli altri ospiti, mentre lanciava occhiate furtive in direzione di Miss Watson. stava chiacchierando con due gentiluomini, due vere lagne, mentre Lady Lucinda si teneva discretamente al suo fianco. E nonostante Ermione non sembrasse civettare né con uno né con l'altro, le attenzioni che stava rivolgendo a entrambi erano di certo maggiori di quelle che aveva ricevuto lui quella sera. Quanto a Lady Lucinda sorrideva amabilmente e osservava tutto quanto. Gregory socchiuse gli occhi. Lo aveva forse ingannato? Non gli era sembrata il tipo, ma in fondo si conoscevano da meno di ventiquattro ore. Cosa sapeva realmente di lei? Poteva avere un secondo fine. E poteva essere un'ottima attrice, con segreti oscuri e impenetrabili sotto quella facciata da «Oh maledizione». Stava impazzendo. Lady Lucinda non avrebbe saputo mentire nemmeno per salvarsi la vita. Era pronto a scommettere fino al suo ultimo Penny. Era solare e aperta e non aveva proprio nulla di misterioso. Le sue intenzioni erano buone, di questo era certo, ma il suo consiglio si era rivelato pernicioso. Incrociò il suo sguardo e gli sembrò di cogliere un'espressione mortificata. E aveva forse scrollato le spalle? Che diavolo voleva dire? Avanzò di un passo, quindi si fermò. Pensò poi di fare un altro passo. No, sì. No, forse... Maledizione, non sapeva proprio cosa fare. Era una sensazione estremamente sgradevole. Tornò a fissare Lady Lucinda, certo di non avere un'espressione particolarmente serena. In fondo era tutta colpa sua, ma ovviamente lei non lo stava più guardando. Tuttavia Gregory non distorse lo sguardo. Lei si voltò di nuovo e sbarrò gli occhi, forse allarmata. Bene, adesso sì che si ragionava. Se non poteva godere delle attenzioni di Miss Watson, poteva quantomeno fulminare con lo sguardo Lady Lucinda. In certe occasioni non c'era spazio per maturità e tatto. Restò indisparte, finalmente stava cominciando a divertirsi. C'era qualcosa di perversamente gradevole nell'immaginare Lady Lucinda come un leprotto indifeso, incerto su quando sarebbe arrivata la sua ora. Non che Gregory potesse riservarsi il ruolo del cacciatore. Con la sua mira spaventosa non sarebbe mai riuscito a colpire alcun animale in movimento ed era una gran fortuna che non dovesse procacciarsi il cibo da solo. Ma riusciva benissimo a immaginarsi nel ruolo di volpe. Sorrise. Era il primo sorriso sincero della serata. Ma evidentemente il destino era dalla sua parte perché a un certo punto vide Lady Lucinda scusarsi e sgattaiolare fuori dalla porta dell'auditorio, probabilmente per recarsi alla toilette. Poiché Gregory era in fondo alla sala, nessuno notò la sua uscita attraverso un'altra porta. E così, quando Lady Lucinda passò davanti alla biblioteca, lui riuscì a trascinarla dentro senza fare rumore.